È stato individuato dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano, il responsabile di numerosi casi di abbandono di grandi quantità di rifiuti presso alcune isole ecologiche nei comuni di Fano, San Costanzo, Pesaro ed intorni. Gli accertamenti effettuati dagli agenti diretti da Stefano Seretti, in collaborazione con la Polizia Locale di Fano e di San Costanzo, con i Carabinieri Forestali di Pesaro e con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, hanno permesso di ricostruire tutti gli episodi di abbandono dei rifiuti avvenuti nei mesi precedenti. Sono stati accertati otto casi di sversamenti di rifiuti composti da 180 pneumatici usati per un totale di 1.500 kg presso le isole ecologiche tra Fano e San Costanzo, a cui si aggiungono altri tre episodi di abbandono per un totale di altri 500 kg di rifiuti costituiti da 50 pneumatici e da un frigorifero avvenuti tra Monbaroccio, Villabetti e Pesaro, tutti in orari notturni. Le indagini hanno consentito di identificare il responsabile risultato essere un quarantenne di origine asiatica, titolare di una ditta di montaggio e smontaggio mobili di San Costanzo, attiva nel recupero di varie tipologie di materiale tra la provincia di Pesaro Urbino e la vicina Romagna, da rivendere nel paese d'origine. Il materiale recuperato veniva conservato all'interno di un deposito situato nell'entroterra ed una volta giunto a saturazione, veniva in parte liberato ricorrendo allo sversamento presso le isole ecologiche della provincia. Il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per l'attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro preventivo due autocarri, mentre tutto il materiale abbandonato è stato recuperato e conferito presso i centri di raccolta autorizzati.